Io ho deciso per il voto palese e ho suggerito, naturalmente la valutazione sarà al Presidente, di circoscrivere la decisione all'applicazione della norma della Severino, sulla cui il regolamento del Senato non prevede nulla e non ha nessuna prassi, per cui non c'è da modificare o contrastare norme o prassi vigenti. Noi dobbiamo decidere su questo caso, rinviando poi e dopo approfondimenti sui casi di ineleggibilità e incompatibilità per i quali c'è una tradizione di voto segreto senza che però ci siano norme in questo senso e il fatto che questa decisione attenga non a una decisione sulla persona ma sullo status del parlamentare e cioè se il suo status di colui che ha riportato una condanna non vulneri l'integrità morale dell'Assemblea è la finalità della legge del Severino ed è anche quanto nella sentenza della Corte d'Appello di Milano di ieri che è stata invocata per altri aspetti dal Presidente Nitto Palma è espressamente indicato e cioè il fatto che questa questione attiene allo status del parlamentare e quindi in quanto tale non rientra nelle norme che prevedono il voto segreto su persone.